Ultima chiamata per la terra, le emergenze che verranno, allarme della Nazione Unite. Torino, l'illusione di voler togliere il crocefisso dalla sala rossa del comune. Povertà, la politica risponde al vescovo. Si riparta dalla solidarietà, l'impegno del comune. Attualità, guerra, le vie della pace in Ucraina, parla il vescovo del Donbass. La voce del Papa nello spazio con un satellite costruito a Torino. Cultura, c'è posto per i cattolici nel nuovo PD della Schlein? Ah, saperlo. Chiesa, l'alexio divina di Repole in Duomo il primo aprile. I giubilei dei preti, giovedì santo. La settimana santa, le pagine dell'Eco e del Solidale. Oratori, Babal di Sero si riapre sui passi di Andrea. Vent'anni di noi Torino. Al Sermig due lotterie per Felicizia. Settimo vacanze in oratorio. La voce e il tempo, l'altro giornale.